83 nuovi casi di positività al covid-19 registrati in Abruzzo che così dall'inizio dell'emergenza supera quota 2000 e si attesta a 2014 casi positivi diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, anche attraverso l'istituto zooprofilattico di Teramo e l'università di Chieti. I numeri odierni si basano su un totale di 833 tamponi analizzati, 10% di positivi sul totale. Nella giornata di ieri i positivi erano stati 72 su un totale di 981 tamponi analizzati, 7,3%. 305 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 53 in terapia intensiva, mentre gli altri 1.277 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASLE. Nel numero di casi positivi sono compresi anche quattro nuovi decessi che fanno salire il numero a 298. Dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti complessivamente 18.088 test, di cui 11.910 sono risultati negativi. Del totale dei casi positivi 213 si riferiscono alla ASLE Avezzano sul Monalacuila, 392 all'ASLE Lanciano Vastocchietti, 838 all'ASLE di Pescara e 571 all'ASLE di Teramo. Degli 83 casi positivi al Covid-19 registrati oggi, 13 fanno riferimento all'ASLE Avezzano sul Monalacuila, 24 all'ASLE Lanciano Vastocchietti, 31 all'ASLE di Pescara e 15 all'ASLE di Teramo.